ragazzi miei belli buonasera a tutti quando è cominciata la partita c'è nel senso no quando è cominciata quando siamo rimasti in dieci uomini cioè loro in dieci uomini ovviamente ho pensato oddio qui inizia il peggio non avrei voluto rimanere in dieci uomini perché sapevo che l'Empoli si sarebbe chiuso dietro si sarebbe chiuso a doppia mandata avrebbe messo un bel catenazzo a doppia mandata mamma mia che facciamo e quindi ho detto mamma mia ora arriva il peggio sono ero un po' arrabbiata insomma nel primo tempo vedevo un po' la squadra lenta macchinosa insomma faceva fatica e ovviamente ho letto alcuni commenti di gente veramente di basso livello secondo me intellettivo che parlava addirittura di una come mai l'Inter finisce sempre a giocare con l'uomo in più quello era fallo di ammunizione non era fallo cioè se non dà l'espulsione in quel fallo lì ma quando la devi dare l'espulsione siate un pochettino un po' più onesti intellettualmente cercate di ragionare con una cognizione di causa tale da poter capire che quello è un fallo dove gli spezzi la gamba a un giocatore se non stai attento cioè lo ammazzi gli fai male e quindi è espulsione cerchiamo di ragionare su questa cosa detto questo l'Inter vince 0 a 3 ad Empoli un campo sicuramente non facile per nessuna e l'abbiamo visto il Napoli ha faticato tantissimo ha vinto se non sbaglio 1 a 0 ha vinto 1 a 0 contro l'Empoli 0 a 1 puoi vedere un attimo puoi controllare no ragazzi perché io tutto in diretta no tutto in maniera molto estemporanea anche perché sto aspettando che il caro Simoncino venga ai microfoni è entrato anche Palasio siete contenti mi stavate facendo due così Palasio perché non fa giocare Palasio 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 alla fine l'arbitro alla fine di tutto l'arbitro che cosa ha fatto ha praticamente interrotto un'azione in attacco di Rodrigo Palasio stavo dicendo stavo dicendo di Rodrigo Palasio invece di Thomas Palacios sta praticamente l'arbitro ha fischiato anche 4 secondi in anticipo rispetto alla fine della gara che non ha dato neanche 3 minuti di recupero e ci siamo rimasti male tutti in realtà c'è rimasto male pure il bastone che si è alzato la panchina ha detto no dai che c'è la Palasios lì che stava segnando stava andando a fare a fare il gol aveva quel limpeto ecco Palasio Palasios è entrato siete felici a me fa piacere mi fa piacerissimo piano piano a rotazione secondo me entreranno tutti per forza di cose mi è piaciuto Zelischi per come è entrato aspettate un attimo che prendo informazione quindi 0-1 0-1 cioè il Napoli ha vinto 0-1 ad Empoli quindi ragazzi ah però ha vinto 0-1 in 11 contro 11 e sti cavoli sti cavoli non ce li mettiamo anche perché ragazzi parliamoci chiaro parliamoci molto chiaro una squadra che lotta per la salvezza che resta in 10 uomini è ancora peggio per chi conosce il campo il terreno di gioco per chi ha giocato a calcio e per chi il calcio lo segue da 30 anni come faccio io lo seguo esattamente da 35 anni esatti e quindi qualcosina la capisce no e capisce anche che una squadra come l'Empoli si chiude tutta in difesa e ciao core nel primo tempo abbiamo faticato devo dire nel primo tempo è stata abbastanza abbastanza tosta poi siamo entrati nel secondo tempo convinti decisi di quello che volevamo non era facile ma ci siamo ampiamente riusciti a portare a casa il risultato avevo detto avevo predetto io che non faccio mai pronostici con una mia carissima amica che è arianna avevo predetto ari vinciamo 0 a 3 stai serena e lei dice non mi illudere ti prego è difficile come partita era difficile come partita perché nessuna partita in serie è facile ragazzi ma ero convinta che l'inter potesse assolutamente portare a casa questi questi tre punti detto questo sono contenta che domani vado da papà e gli vado a dire che abbiamo vinto questa partita in modo abbastanza tranquillo perché si può dire tranquillo sì e non posso esultare più di tanto perché se no qua è possibile che qualcuno viene ma avete vinto con l'Empoli abbiamo vinto con l'Empoli le altre squadre con l'Empoli hanno vinto per miracolo per miracolo di nessuno ecco per miracolo e basta quindi questo è ragazzi niente sono un po' sono un po' accorto di parole questa sera non so perché forse sarò stanca sarò sarò un po' un po' così ma non sono un po' accorto di parole adesso aspettiamo l'intervista di Simoncino cioè ragazzi sto vedendo l'espulsione ma qualcuno veramente ha il coraggio di parlare di questa espulsione ragazzi questo manca guarda guarda qua sembra l'esorcista guarda cioè questo non ha neanche esultato e esultato sì vabbè c'è ragazzi stasera io non ci sono questo non ha neanche protestato se ne è andato zitto e muto nella raga il gol di Frattesi ve lo giuro cioè parola mia pensavo che non fosse gol il primo gol il primo gol cioè pensavo che fosse uscita dall'altra parte sulla alla destra del portiere non ha neanche esultato poi ho visto che Gabriele faceva e vai e faccio ma che caspita esulta questo e poi mi sono resa conto che fosse gol ma sì una bella una bella una bella incascettata mi sono presa nel primo tempo nel primo tempo devo dire infatti adesso ho l'adrenalina che è calata totalmente e ho uno sfinimento cioè mi si sono come si dice ho rilascio ho rilasciato proprio gli un cosa niente raga questo è abbiamo vinto ci siamo portati a casa questi tre punti adesso ci aspetta in Venezia subito dopo l'arsenal e subito dopo ancora the naples ragazzi dobbiamo andare a vincere contro il napoli che poi oltretutto giochiamo anche a san siro quindi è d'obbligo raga abbiamo lasciato punti con il milan abbiamo fatto non lo so neanche abbiamo lasciato punti preziosissimi anche con la juventus dico il milan bene o male ha meritato meritava la vita ha meritato la vittoria quel giorno a juventus ragazzi gli abbiamo regalato due punti due punti abbiamo regalato abbiamo buttato proprio due punti al vento e questo è per quanto riguarda la fase tecnica questa sera ha faticato un pochettino tanto mkhitaryan secondo me barella non è il solito barella secondo me c'ha la nogula adesso manca eppure parecchio poi che dirvi più meditare mi gioca poco raga meditare mi gioca poco quindi subentrato ce lo vedo molto confusionario le partite in champions che ha fatto sono state stratosferiche intelligenti bellissime bene bastoni bene bissec benissimo davidino frattesino che ha fatto doppietta oggi sono molto felice adesso mi guardo le interviste vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre che la vostra luca vi vuole bene sempre 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 forza inter vai papà che domani vengo e ti racconto tutta la partita tutta la partita e mi apri i tuoi occhioni bellissimi non sono una giornalista ma sono appassionata si vede pure condividete il video ciao